Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per lavori in direzione Bologna, un chilometro di coda tra Incisa Reggello e Firenze in Pruneta, in direzione Roma per traffico intenso, rallentamenti tra Aglio e Calenzano, in A11 in direzione Firenze per traffico intenso, code tra Sesto Fiorentino e Firenze per Eitola, code a tratti tra Prato Ovest e il video per la A1. Sulla Fibili rallentamenti tra Firenze Scandicci e Scandicci in entrambe le direzioni. Sulla statale Trebis Tiberina per lavori è chiuso in entrambe le direzioni lo svincolo di Sansepolcro Sud in direzione Roma. La viabilità cittadina a Firenze in via delle Panche per lavori, chiuso il tratto tra via Santo Stefano in pane e via Reginaldo Giuliani. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!